All'epoca il fatto suscitò scalpore e preoccupazione in città. Una rapina in villa con tanto di pestaggio al padrone di casa, davanti gli occhi di mogli e figli, il dirigente comunale Carlo Cafaggi, che riportò ferite e lesioni per una prognosi di sei mesi. All'inizio si pensava ad una banda di malviventi, stranieri, che avevano messo a segno il raide nella villetta di Sant'Elia, ma il timore generale era che la cosa si sarebbe potuta ripetere, o peggio, sarebbe potuta capitare a chiunque. Oggi, a oltre due anni dai fatti e dopo le indagini degli inquirenti e forze di polizia, è emerso che sì, la rapina fu messa a segno da una ganga composta da cittadini rumeni ed albanesi, ma l'obiettivo era nel mirino dei malviventi da tempo e aveva un preciso mandante. Questa è la tesi del pubblico ministero David Mancini, per il quale, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero, fu commissionato da un imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, 44 anni, indagato insieme ad altre quattro persone, tre di nazionalità albanese ed un rumeno, tutti tra i 24 e i 35 anni. Dopo aver preso un Rolex, cellulari e bracciali d'oro e diamanti, il dirigente comunale fu picchiato selvaggiamente da malviventi, prima di essere imbavagliato insieme al resto dei familiari, sotto la minaccia delle pistole. Un pestaggio avvenuto, secondo il sostituto procuratore, perché l'uomo si era rifiutato di indicare dove erano custoditi gli altri oggetti preziosi. Un'azione in pieno stile arancia meccanica, sul quale inizia a farsi chiarezza dopo mesi di dibatti di cittadini e apprezzione per un episodio quasi unico nella storia della criminalità del capoluogo.